Ciao, bentornato sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. In questo video torniamo a parlare dei PDF. Ne abbiamo parlato diverse volte e qui in alto sulla iti metto il link a tutta la playlist dei PDF così puoi rispondere alle tue domande perché effettivamente ne abbiamo parlato tanto. Ma oggi scopriamo una cosa nuova che a sua volta ci fa comprendere meglio il mondo dei PDF, di come sono fatti eccetera eccetera. Allora innanzitutto, prima di cominciare, cosa fondamentale? Per vedere il PDF utilizziamo il lettore apposito Adobe Acrobat Reader DC. Questo è il lettore ufficiale, diciamo, di quelli che hanno inventato i PDF e quindi con questo lettore possiamo fare varie cose. Per cui sul tuo computer dovresti avere questo lettore, anche se il tuo computer vede già i PDF e te li mostra già, questo è il lettore ufficiale gratuito. Non è mai presente sul computer in origine, quasi mai, va scaricato. Come faccio a scaricare questo lettore? Vado sul sito internet, quindi vado sull'apposito sito internet, in questo caso vado su Google, scrivo Adobe Acrobat Reader DC, eccolo qua, raggiungo la pagina internet, ingrandiamo così vediamo meglio, download di Adobe Acrobat Reader DC. Questo è il sito ufficiale. Premo. Andiamo solo sul sito ufficiale per evitare di scaricare altre cose strane. Quindi programma gratuito dal sito ufficiale. Vabbè, abilito i cookie e sono arrivato in questa pagina. Qui ce ne sono due versioni, quella gratuita e quella a pagamento. Questo si paga e con questa versione del software posso fare tutto, posso modificare i PDF, posso aggiungere delle pagine, posso togliere delle pagine, posso fare tutte quelle cose che mi chiedete, ma se devo fare questo, se devo fare l'altro. Questa è la versione ufficiale, professionale, a pagamento e può fare tutto. Quindi se hai un uso professionale dei PDF e devi fare spesso tante cose, eccetera, con questo ti faciliti, funziona sempre, è sicuro e va bene. Eviterei di mettere le opzioni opzionali, appunto, perché preferisco di no, almeno nel mio caso, e scarico direttamente Acrobat Reader. Ora io l'ho già nel mio computer, magari vedremo in un'altra occasione come scaricarlo, eccetera, ma è piuttosto semplice, basta semplicemente scaricare. Arrivi a questa situazione, che nel tuo computer c'è questa icona. Ora, se io ci clicco sopra, vedo il software, in questo caso non mi interessa più di tanto, perché io non voglio vedere il programma, io voglio vedere il PDF, per cui in genere questa icona la tolgo direttamente, l'ho tenuta qui solo per farti vedere il programma, e apro direttamente il PDF. Ah, un'altra cosa, così rispondo a un'altra domanda. Il mio computer monta Windows 11 in questo momento. Questa è l'icona che appare per i file PDF. Qualcuno mi dice, ma sul mio computer ho un'icona diversa, su Windows 10 ho un'icona, su Windows 11 ne ho un'altra. Cambia per via del programma che abbiamo installato per leggere i PDF. Quindi se installi la versione ufficiale del programma di lettura dei PDF, hai questa icona, al di là di quale computer vai a utilizzare. Quindi adesso stiamo per aprire un PDF. Vorrei un attimo, prima di addentrarci a fare le nostre cose, focalizzare l'attenzione su cos'è un PDF. Un PDF è un file di qualche genere convertito. Mi spiego meglio. Questo, gatti preziosi, è il file originale. Quindi lo apro, lo apro con LibreOffice, nel mio caso, ed è una cosa che ho scritto. Questo è un testo, è una cosa che ho scritto. Perché si crea il PDF di questa cosa? C'è LibreOffice, leggilo con LibreOffice. Perché se io creo un PDF, quello diventa un file non modificabile, a meno che non utilizziamo la versione professionale, ma soprattutto un file che possono aprire tutti. In passato c'era proprio l'esigenza di questa multipiattaforma di rendere compatibile il file con tutti, con qualsiasi computer, con Apple, con Windows, con qualsiasi altro computer, anche se la persona non ha lo stesso programma che avevo io per creare il file. Immaginati un architetto che disegna qualcosa, lo fa vedere al cliente. Il cliente non può avere il programma di disegno dell'architetto perché costa parecchi soldi e bisogna anche saperlo usare. Quindi l'architetto crea un PDF. In questo modo quel PDF è non modificabile e è leggibile con qualsiasi computer, anche con i cellulari o con i tablet adesso. Quindi questo è lo scopo. Per cui il PDF non è mai un file creato direttamente in PDF. È in qualche modo una conversione di un qualcosa d'altro in PDF in modo che questo file sia disponibile per tutti. Portable Document Format è la traduzione di PDF che sta per formato di documento portatile perché si può usare ovunque. In passato era molto importante, poi hanno inventato questi PDF e quindi adesso li possiamo usare. Quindi si crea un PDF, basta avere un lettore di PDF gratuito su qualsiasi computer per poterlo vedere. Ok, quindi questo Gatti Preziosi è la conversione del file originale Gatti Preziosi che ho qui. Ora finalmente lo vado ad aprire. Clicco due volte qui sopra, il mio computer ha la versione Acrobat Reader DC, quella versione gratuita in questo caso, e adesso vedo il file. Se faccio scorrere lo vedo. Ok, e ci siamo. Ingrandisco e ci siamo. Allora, che cosa vogliamo fare con questo PDF? un PDF di particolare e che ci aiuterà a capire meglio come funziona. Voglio far sì che il mio computer lo legga. Voglio avere la voce che mi legge i PDF perché mi è comodo così. Come faccio? Semplice. Vado su Vista visto che ho il programma ufficiale Leggi a voce alta Attiva lettura a voce alta Premo e la lettura è attivata. Però ora ho bisogno che il computer me lo legga. Quindi vado di nuovo su Vista torno in Leggi a voce alta e qui c'è ora questa scelta Leggi solo questa pagina o Leggi documento fino alla fine. Dato che il documento è di 100 pagine dico Leggi solo questa pagina. Premo. Prefazione. Nel corso della mia vita ho incontrato molti gatti. Qualcuno mi ha accompagnato per un po'. Altri li ho conosciuti solo di sfuggire. Ok, ho chiuso perché altrimenti il computer ci leggeva tutta quanta la pagina. Fantastico. Il nostro computer ci può leggere i PDF. Benissimo. Proviamo con un altro. Quindi questo PDF deriva direttamente dal testo scritto da me con LibreOffice. Ora apro questo PDF questo qui e questo PDF contiene del testo scritto ma l'ho avuto l'ho trasformato in PDF fotografando dei fogli. io avevo dei fogli qui con queste istruzioni e li ho fotografati col cellulare trasformandoli in PDF. Li ho digitalizzati. In un video precedente abbiamo visto come fare. Qui sulla IT metto il riferimento a quel video. Voglio farmi leggere questo PDF. Quindi stessi comandi di prima. Vista Leggi a voce alta Attiva lettura a voce alta Perfetto. Di nuovo Vista Leggi a voce alta Leggi solo questa pagina. Premo Avviso Pagina vuota Il programma non riesce a leggermi questa pagina eppure la pagina non è vuota. Perché non riesce a leggermelo? Perché questa conversione di PDF è avvenuta tramite una fotografia. Questo per lui che è un PDF che riesce a mostrarmi stamparmi eccetera eccetera non contiene del testo è una foto poi io ci vedo del testo perché riesco a leggerlo ma il computer no lui vede solo una foto. Se io provo a selezionare il testo qui ottengo questo rettangolo ma non seleziono il testo seleziono una parte della pagina. Se io questo lo chiudo e vado ad aprire Gatti Preziosi quello di prima raggiungiamo più o meno la stessa pagina di prima qui posso selezionare il testo. Ecco questo è un PDF convertito in maniera tale che il testo rimanga visibile selezionabile dal computer. Il contenuto di questo file è possibile modificarlo quindi se io voglio posso aprire questo file con un programma che è in grado di convertire i PDF e di leggere i PDF quindi o la versione professionale o anche LibreOffice per esempio LibreOffice è in grado di modificare i file PDF quindi se io questo file lo apro con LibreOffice posso andare a scriverci qualcosa tra le righe ora no perché è un PDF e questa versione del programma è solo lettura quindi non posso modificarlo perché è la versione gratis con la professionale potrei ma con altri programmi posso quindi LibreOffice che è gratuito mi permette di scriverci dentro e quindi posso modificare il testo perché correggo un errore di ortografia o faccio qualcosa mentre invece questo documento essendo una foto non è modificabile posso modificarlo con un programma di disegno e dire vabbè cancello questa scritta eccetera cancello questa scritta faccio un bordo di un colore diverso ma se devo scriverci dentro faccio una fatica enorme perché devo col pennellino cancellare le parole poi devo cercare di riscrivere tutto se devo aggiungere una parola qui tutte le altre le devo spostare come se fosse un disegno quindi non mi è pratico da modificare perché questo PDF in questo PDF il testo non è stato convertito è stato acquisito come immagine quindi rendiamoci conto che tutti i documenti sono PDF quando sono PDF ma dipende da dove arrivano e da come sono stati creati convertiti e quindi sono diversi tra loro è un PDF ma questo fa una cosa quell'altro non la fa eccetera eccetera e quindi non accorpiamo il discorso ma è un PDF perché non posso fare questo o perché non posso fare l'altro ora sappiamo il perché bene detto questo vorrei approfondire un po' il discorso della lettura della conversione eccetera perché così magari ti puoi rendere meglio conto di questa cosa allora prendo Gatti Preziosi l'originale ce l'ho già qui lo trasformo in un PDF quindi voglio convertirlo in un PDF e vedere cosa succede in LibreOffice c'è questo pulsante esporta direttamente in PDF quindi premo e vado qui dove c'è Gatti Preziosi allora vado sul desktop quindi questo documento apparirà sul desktop voglio che si chiami Gatti Preziosi convertito ok quindi ora trasformo questo documento in PDF perché lo devo mandare a un editore perché lo devo dare a un amico eccetera gli faccio il PDF così siamo sicuri tutti salvo e a questo punto il computer fa il lavoro potrebbe impiegarci un po' no sembra di no riduco a icona qui ottengo Gatti Preziosi convertito perfetto apro il mio PDF eccolo qua è lui proviamo a leggerlo Vista Leggi a voce alta Attiva lettura a voce alta e poi vado in Vista Leggi a voce alta Leggi questa pagina Prefazione Nel corso della mia vita ho incontrato molti Gatti Qualcuno mi ha accompagnato per un po' ok funziona quindi questa conversione fatta da LibreOffice è perfetta il testo resta testo si può leggere proviamo di nuovo allora vado ad aprire di nuovo Gatti Preziosi originale e lo converto questa volta in un modo diverso allora lo stampo perché per generare un PDF può darsi che il programma ufficiale che utilizzi per creare il tuo file quindi l'architetto noi che scriviamo qualcun altro che fa altre cose abbia il pulsante esporta in PDF quindi lo converte in un certo modo diversamente l'alternativa è quello di stampare il documento in PDF se io stampo il documento in PDF genero comunque un PDF faccio una conversione con una stampante PDF andiamo qui in file stampa poi ragioniamo su questo discorso scelgo la stampante tra le varie stampanti che ho qui questa è la mia stampante laser per dirci quella che stampa i fogli su carta e questa invece è quella PDF se hai Windows 10 o Windows 11 hai tra le tue stampanti Microsoft Print to PDF cioè in Windows c'è già caricata una stampante virtuale perché non c'è nella realtà che trasforma un documento in un PDF stampandolo con le stesse opzioni di stampa quindi scelgo Microsoft Print to PDF perché ce l'ho già e stampo il documento attenzione se tu hai un Windows precedente Windows 7 ad esempio può darsi che tu non abbia questo Microsoft Print to PDF devi scaricarlo da internet devi andare in internet in Google e cercare una stampante magari in un prossimo video vedremo come fare perché ce ne sono tante magari diventa complicato trovare quella giusta però il concetto è quello devi rendere in grado il tuo Windows di stampare in PDF aggiungendo una nuova stampante virtuale noi non ne abbiamo bisogno perché abbiamo Windows 10 perché abbiamo Windows 11 ed è già compresa ok ora io adesso potrei stampare tutto quanto il documento e via vedere un PDF stampato dato che ci impiega tanto a stampare tutto quanto il documento decido di stampare solo alcune pagine allora decido di stampare la pagina 2 eccola qua che è quella della prefazione che è quella che leggiamo sempre e dico stampa a questo punto mi viene chiesto dove vuoi generare questo PDF fatto con la stampa sul desktop del mio computer e lo chiamo GP che sta per gratti preziosi 2 stampato da Libre così so che è stato stampato da LibreOffice salvo viene creata la mia pagina riduco a icona questo ed eccoci qua GP2 stampato da Libre apro il documento PDF ed è lui è sempre lui eccolo qua quindi il mio Windows 11 in questo caso ha generato un PDF ha convertito il documento in PDF tramite una stampante virtuale ok proviamo a fare la lettura vista leggi a voce alta attiva lettura voce alta vista leggi a voce alta leggi solo questa pagina premo prefazione nel corso della mia vita ho incontrato facci caso è lento a leggerlo l'altro documento che tra l'altro è anche più grande viene letto così con velocità normale mentre questo stampato lo legge lentamente a me sul mio Windows capita questo quindi a me viene da pensare che la mia stampante PDF Microsoft PDF eccetera crei un documento giusto diciamo quindi con possibilità di lettura del testo con il riconoscimento del testo però poi è lento a leggerlo Acrobat Reader è lento a leggerlo e immagino perché il documento abbia un formato particolare noi vediamo il PDF e basta però nel contenuto del documento evidentemente manca qualcosa ci sono più cose eccetera insomma è stato convertito in maniera se vogliamo meno perfetta diciamolo tra virgolette rispetto alla conversione tramite esportazione da LibreOffice e a questo punto voglio farti notare un'altra cosa ancora allora questa cosa prova là e dimmi se anche tu nel tuo computer ti ritrovi una lettura più lenta con una stampa di questo genere con la stampa Microsoft PDF ma voglio provare un'altra cosa allora questo documento questo qui che è quello che abbiamo convertito noi che è quello di 100 pagine 101 pagine quello bello che si legge bene questo documento si legge bene riproviamolo vista leggi a voce alta attiva lettura voce alta vista leggi a voce alta leggi solo questa pagina prefazione nel corso della mia vita ho incontrato molti gatti qualcuno mi ha ok questo si legge bene lo voglio stampare in un video precedente magari ti metto il link sempre qui in alto abbiamo estrapolato alcune pagine da un pdf non ho il file originale perché non ho scritto io questo testo ma voglio tirarmi fuori solo una pagina due pagine tre pagine perché mi serve così voglio un pdf di tre pagine o di due pagine bene prendo il pdf ufficiale e lo stampo quindi vado su file stampa stampando solo le pagine che mi interessano mi regolo la stampante su microsoft to pdf per me è già così allora voglio stampare le pagine due tre quattro quindi due virgola tre virgola quattro queste tre pagine stampo e a questo punto devo salvare di nuovo questo pc desktop e qui lo chiamo gp gatti preziosi due tre quattro salva e ora il mio programma stampa questo è il programma ufficiale che stampa ma la stampante è sempre microsoft print to pdf questo lo chiudiamo e ho il mio nuovo file eccolo qua gp 234 vado ad aprirlo c'è il mio documento perfetto eccolo qua bellissimo perfetto bene si vede bene tutto pulito eccetera proviamo a fare la lettura vista leggi a voce alta attiva la lettura a voce alta vista leggi a voce alta leggi solo questa pagina avviso pagina vuota ecco in questo caso stampando da un pdf la stampante non è stata in grado di riportarmi il testo vedo il documento è lui è palesemente lui c'è tutto però il testo non è selezionabile e quindi è stato stampato però non ha trasportato le informazioni testo all'interno del file pdf quindi quello è sempre un file pdf ma posso farne degli usi diversi ad esempio non posso fare la lettura a voce alta questo per farti capire quanto i pdf siano diversi tra loro non tanto perché ci dobbiamo mettere tutti quanti a leggerlo ma per capire un po' il mondo dei pdf bene mi auguro che questo video ti sia piaciuto qui sotto trovi il pollice in su da andare a premere per farmelo sapere sempre qui sotto trovi il pulsante iscriviti per iscriverti al canale se ancora non lo hai fatto e sempre qui sotto trovi il pulsante abbonati per abbonarti al nostro canale che per noi è un sostegno concreto importante ma anche per vedere i video della serie speciale riservata agli abbonati ci vediamo presto ciao 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 Grazie a tutti.